buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo con i video che riguardano le schedine e bollettine del gigione con il campionato inglese ma prima come sempre prima dei video delle schedine eccetera vi ricordo visto che siamo a inizio weekend è venerdì l'appuntamento come sempre lunedì sera visto che stanno piacendo e anzi tutte le volte si aggiunge sempre qualcuno l'appuntamento con da diretta live del gigione il lunedì sera a partire dalle 21 e 30 barra 22 fino a tarda notte l'ultima volta siamo andati avanti fino alle tre quindi cinque ore e mezza più o meno di diretta col gigione detto questo andiamo a vedere il campionato inglese e le schedine e bollettine del gigione partiamo subito con la partita delle 13 e 30 che vede già impegnato il nostro giuse murigno perché c'è subito west end tottenham alle 13 e 30 sabato quindi subito il battesimo del fuoco per l'ex allenatore del del celsi e dell'inter ha detto non allenerò mai il tottenham è andata ad allenare il tottenham va bene però è un discorso diverso comunque west end tottenham mi fido di giose dico due arsenal south end 1 brighton leicester x2 everton norwich 1 bornevo volverenton partita da tripla e come sempre quando le partite sono da triple io mi arrischio l'uno 2 poi naturalmente uscirà il pareggio per farmi girare i testi e magari sarà l'unica partita che sbaglio tenetene conto le ultime parole famose crystal palace liverpool 2 volford manley 1x manchester city celsi 1 a una cosa su crystal palace liverpool allora è un 2 sulla carta cioè però ogni volta che io segnavo il 2 mi veniva da smetterci l'uno quindi tenetene conto poi mi sbaglierò liverpool vincerà 4 a 0 segna 2 gol mané 1 sala eccetera però ogni volta che mettevo il 2 mi veniva da metterlo 1 poi sheffield versus manchester united x2 e aston villa newcastle 1x che sono le partite di domenica alle 17 30 di lunedì il monday night alle 21 veniamo alla schiena alternativa west end tottenham over 2 e mezzo poi a rischiata ci proviamo arsenal south end over 1 e mezzo brighton lecester under 3 e mezzo everton norwich over 1 e mezzo bornevo wolverenton under 3 e mezzo crystal palace liverpool over 2 e mezzo wofford barley over 1 e mezzo manchester city celsi over 2 e mezzo perché questa è la partita da grande libidine e magari un celsi un gollettino lo riesce anche a fare manchester city poi ne prenderà 3 o 4 però vabbè sheffield manchester united under 3 e mezzo perché del manchester ormai non mi fido più e attenzione a una vittoria magari risicata 1 a 0 dello sheffield io ho messo l'is 2 però ormai il manchester ha un punto di domanda poi magari mi vince 4 a 0 mi fa incazzare segnando l'ultimo gol al 92esimo e aston villa newcastle over 1 e mezzo veniamo alle schedine ho scelto queste quattro partite e vediamo cosa succederà west end tottenham 2 arsenal sottento 1 crystal palace liverpool 2 brighton leicester 2 con 5 euro 36 euro e 66 seconda bollettina west end tottenham 2 x 2 scusate west end tottenham 2 arsenal sottento 1 crystal palace liverpool 2 e brighton leicester x 2 con 5 euro 15 85 se uno si vuol fidare di giose murigno vuole rischiare west end tottenham 2 secco la quota si alza a 22 virgola 91 terza bollettina west end tottenham 2 piove is 2 piove is 2 piove arsenal sottento 1 x piove crystal palace liverpool x 2 piove brighton leicester x 2 piove con 5 euro 18 euro e 20 poi se uno vuole rischiare west end tottenham 2 piove più le altre tre lasciarle invariate 24 euro e 70 se in più ci vuole aggiungere anche cristal palace liverpool 2 piove la quota sale a 30 e 97 se volete invertire più o meno sarà uguale cioè se volete giocare west end tottenham lasciare l'is 2 da giocarvi il 2 su piove con il liverpool più o meno la cifra sarà intorno ai 25 euro lo stesso vediamo dalla quarta bollettina west end tottenham gol casa arsenal sottento un gol ospite crystal palace liverpool gol casa e brighton leicester gol casa c'è la linguetta fermata oggi con 5 euro è poco lo so 20 euro e 0 7 poi altra cosa ve la dico subito che così almeno visto che sono partite abbastanza favorite dal gol più over eccetera se qualcuno vuole giocarsi il gol su queste quattro partite tenete conto l'unica partita in cui il gol è un attimino lì lì alla pari col no gol è crystal palace liverpool ecco crystal palace liverpool magari il gol non è propriamente scontato le altre tre sembrerebbe di sì quindi con i gol di queste quattro partite vengono fuori 37 euro e 20 con 5 euro poi vedete voi se giocarvi anche lo stesso crystal palace liverpool gol o se no magari andate via di over 1 e mezzo non mettete assieme al gol non verrà la stessa cifra ma una trentina di euro li portate a casa con 5 euro non è che fanno schifo veniamo alla quinta bollettina west end tottenham gol piove arsenal sottento gol piove crystal palace liverpool gol piove e brighton leicester gol piove con 5 euro 76 euro virgola 10 che ci possono stare infine ricombo west and tottenham due più gol piove arsenal sottento 1 più gol piove crystal palace liverpool 2 più gol piove e Brighton, Leicester, 2 più gol più over con 2 euro 182 euro virgola 92 e direi che bastano e avanzano, se però vi piace vi sconquinfera eccetera con 5 euro 457 virgola 32 detto questo io vi saluto vi ringrazio, questo video uscirà intorno a mezzogiorno una, una e mezza del venerdì, poi piano piano andranno via tutti gli altri in modo che entro venerdì sera entro la giornata di oggi comunque avrete tutte 5 le solite bollette del gigione, una sarà già online a breve anzi è già online da un pezzo quando vedrete questo video che riguarda il campionato spagnolo ma perché vi ho messo dentro anche le partite di questa sera Shows